Non è il tempo delle dichiarazioni, è il tempo delle azioni. Si è espresso così il prefetto di Chieti Giacomo Barbato che accompagnato dal colonnello dei Carabinieri Florimondo Forleo si è recato presso la procura di Vasto. Una visita che non lascia presagire nulla di positivo, anzi alla centro della trasferta vastese sicuramente questioni legate alla Jova Beach Party ed è possibile che a questo punto vengano presi dei provvedimenti visto quanto accaduto dopo l'annullamento del concerto che era previsto a Vasto il 17 agosto. Contemporaneamente il sindaco Francesco Menna si trovava con la Trident che gestisce l'evento in prefettura dove si è tenuto l'ultimo atto della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo, riunione volta a fornire il parere tecnico definitivo sulla tappa del Jova Beach Party. Intanto apprendiamo che a carico del primo cittadino vastese sono state eseguite tre informative di reato da parte dei Carabinieri e uno esposto della Corte dei Conti. Poco prima delle 12 il prefetto è uscito dalla procura e non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito ma solo ha fermato. Tutte le risposte alle domande che mi volete fare come sapete le trovate sul sito dove sono pubblicati i documenti. Dunque quello che era nato come un evento estivo per intrattenere cittadini e turisti sta di giorno in giorno acquisendo le sempianze di una telenovela e in cui ormai appare ovvio non mancheranno risvolti legali.